Lei parlava prima dei tagli alla sanità, la sanità è solo uno dei comparti che vengono interessati da nuovi sacrifici con la legge di stabilità. Quindi che giudizio dà di questo provvedimento e anche del taglio, seppur piccolo, dell'IRPEF? Innanzitutto io vorrei vedere poi se effettivamente faranno questo taglio dell'IRPEF, perché dovevano così diminuire, non aumentare l'IVA e abbiamo visto che così non è. Abbiamo visto tutta una serie di proposte per il rilancio dell'economia e sono piccole proposte. Bisogna vedere poi al termine dell'ITER della legge di stabilità, se veramente poi ci sarà una diminuzione per quanto riguarda l'IRPEF. Ma ci sono tutta una serie di proposte in questo momento che veramente vanno a deprimento di un possibile sviluppo economico del nostro paese, una possibile ripresa economica, quindi ho la sensazione che questa legge sulla stabilità, oltre a penalizzare in maniera abnorme sia regioni che comuni, penalizzi anche le imprese e i cittadini.